benvenute in questo video vi spiego come scegliere capelli per extension lisci o mossi tipo di keratina bonding peso della ciocca e remi o non remi e imparerai leggere descrizioni di questo prodotto così saprai come da sola poi facile comprare online capelli adatti per te scegliere capelli può essere difficile ma se saprai queste piccole cose vedrai che ci riesci allora questi a sinistra sono capelli mossi comprati online e questi a destra sono capelli lisci venduti da noi allora prima importante cosa è la struttura dei capelli allora scelgo ricci mossi o forse lisci se pensiamo ai capelli ricci mossi abbiamo queste aspettative surreali come in foto che non è possibile con extension la realtà è questa ecco ciocche che ho acquistato online da un'altra editta leader del mercato ciocche 0 5 grammi come vedete mossi e questi sono le ciocche europee vendute da noi ciocche di un grammo 52 centimetri sono capelli lisci ma adatti a tutti i tipi di piega e adesso vediamo questi capelli da vicino ricordate che capelli mossi significa capelli dove è stato fatto permanente non è un cappello naturale mosso come questo che è super caro capello virgin che un grammo può costare anche 4 euro e tutti i capelli economici sono questi fatti con la permanente allora subito dopo quando ho aperto il pacchetto e vi farò vedere come sono questi capelli mossi eccoli sono abbastanza carini sembrano carini è un colore biondo chiarissimo e comunque già al primo impatto si vede che le punte sono che i capelli sono secchi perché sono rovinati un pochino questi sono nostri capelli da un grammo europei remi sono lisci ma molto facile fare la piega si adattano perfettamente a ogni tipo di piega ecco questi capelli di prima sono questi della concorrenza sono ciocche da mezzo grammo c'è una ciocca c'è la mezzo grammo cioè la metà di quello che pesa alla nostra adesso faremo primo test sulla resistenza della cheratina la qualità della cheratina è molto importante perché se c'è basso c'è bassa qualità cheratina economica come in questi capelli qua allora capelli vanno facilmente via o ciò che direttamente intere cascano già questi capelli appena spacchettati provo pettinarli e vedrete cosa succede mi rimane pieno di capelli già sul pettine che significa che la cheratina non tiene bene i capelli perché questa cheratina cip poi questi capelli mossi sono molto secchi sono rovinati sono stata stata fatta permanente su questi capelli cioè rivediamo secchi spenti opachi e immaginate cosa succede se applicate sulla testa capelli del genere e questo già dopo prima pettinata sono andati così tanti via cheratina normale morbida costa di meno ma le ciocche iniziano a cascare abbastanza presto cioè cosa significa già dopo un giorno una settimana possono cascare 5 10 ciocche e guardate sempre quanti capelli mi rimangono comunque sul pettine immaginate se ogni giorno pettinate extension fatto così comunque diminuisce diminuisce dopo un mese dopo sei settimane avrete sulla testa la metà dei capelli applicati giustamente questi capelli costano anche poco perché cheratina cip costa poco e questi sono le nostre ciocche hgr con cheratina italiana è un cheratina dura che puoi portare anche cinque sei mesi e guardate qua capelli non cascano e rimangono fissi in bond anche quando li applicate non perdete capelli veramente per cinque sei mesi potrete portare extension così e noi su tutte le nostre ciocche usiamo solo e esclusivamente questo tipo di cheratina italiana per questo anche costano un po di più ma durano anche di più e su pettine non c'è niente così è fatta a sinistra cheratina morbida economica e questa a destra cheratina italiana questa cheratina economica a sinistra dura un due mesi che dopo vi casca tutto extension quella che usiamo noi anche cinque sei mesi le ciocche rimangono fisse adesso un'altra domanda scegliere capelli remi o non remi allora capelli remi sono questi dove tutte le squamme sono in la stessa direzione questi capelli qua purtroppo sono anche non remi come vedete qua è difficilissimo da pettinare perché le squamme sono in diversi direzioni si annodano anche con una spazzola buona districante è difficile comunque pettinarli questo tipo di capelli vi creerà problemi ogni giorno perché li vedrete così poi anche bisogna prendere in considerazione che questi qua sono anche questi mossi che è fatti con permamente ma comunque questi sono altri capelli sempre non remi che è difficile pettinare lo stesso anche se sono i capelli lisci chiaramente questi capelli costano meno sono più economici però ogni giorno avrete questo problema ogni giorno quando dovete pettinare o quando volete lasciarli liberi perché magari in treccia non si vede in coda non si vede così tanto ma se volete portare un altro tipo di piega sempre avrete un sacco di problemi e qua sto pettinando anche con pettine molto buono di cinghiale districante professionale e vedrete come si comportano cioè pazzesco e purtroppo comunque vi consiglio sempre sempre scegliere capelli un po più cari però remi perché in quotidianità evitate un sacco di problemi e questi sono i nostri capelli hg remier facili da pettinare da snodare e ricordatevi anche sempre che sulla testa quando avete extension sulla testa di pettinare sempre dalle punte in su questo un disegno per farvi capire cosa sono capelli remi e non remi con le squame girate ecco un altro problema il peso delle ciocche quello che venditori non vi diranno mai e spesso non c'è in descrizione del prodotto i nostri capelli questi a destra sono comunque sempre capelli di un grammo e questi qua sono mezzo grammo cioè la ciocca è molto meno spessa come potete vedere qua per questo quando vedete magari capelli con un prezzo eccezionale c'è scritto 100 ciocche 50 euro ok va bene però questi 100 ciocche non peseranno 100 grammi ma 50 grammi e dovete lo stesso comprare il doppio allora non è un risparmio l'effetto può essere abbastanza deludente e purtroppo è così qua a destra nostra ciocca agi a sinistra questa nostra ciocca vedete come sono belli come piena questa ciocca di un grammo comunque sempre sono 52 centimetri volendo si può anche dividere in due questa e questa è una ciocca quella comprata online mezzo grammo guardate anche qua come si vede la differenza per questo controllate sempre peso della ciocca della singola ciocca che spesso in descrizione sul sito online non c'è per non rimanere dopo deluse giustamente vedete la differenza comunque si vede come adesso riassunto pregi e difetti sicuramente le nostre ciocche la differenza di nostri appelli hg sono cappelli remi facili da pettinare cheratina italiana le ciocche durano 5 6 mesi è un grammo ogni ciocca e questi cappelli della concorrenza a buon prezzo perché costano pochissimo facile rimozione le ciocche cascano praticamente da sole e però capelli non sono nemmeno remi crea un sacco di nodi allora cosa scegliere cappelli economici o più buoni dipende dalle vostre condizioni cosa come cosa per voi è importante tempo di utilizzo comfort personale e ovviamente quanti soldi volete spendere budget e vi invito di guardare questo nostro sito hg hair extensions punto com dovete potete acquistare il capelli remi di buonissima qualità e 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